L'iniziativa si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse per far cogliere l'importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle istituzioni e promuovendo nel senso civico. Il nostro concorso è stata un'esperienza davvero unica. Chi parla, devo scelta la parola? Discussione. Possiamo dire che siete stati davvero bravissimi e che vedere una pillola di democrazia di questo genere è un piacere anche per voi. Per cui ritengo che sia fondamentale che i nostri ragazzi realmente incominciano a capire che cosa sia la cosiddetta educazione civica ma che cosa sia la politica perché io ritengo sempre che la politica deve essere al servizio del cittadino ossia interessarsi, quindi cominciare con una discussione per poi passare a uno dei diritti fondamentali che è indicato nella nostra Costituzione che è il diritto alla salute serve proprio per crescerci cittadini. Sono emozionati di essere qua, io un pochino sì e vi racconto anche perché perché è da qualche anno che non riceviamo più gli studenti in presenza per cui c'è proprio una gioia perché questo posto si riapre alla presenza dei ragazzi degli insegnanti che li accompagnano ed è una cosa molto bella. Grazie Grazie